Da dove parte Papa Francesco nel sollecitare i giornalisti ad una verità nella loro attività? Parte dai fondamentali, cioè dalle cose più radicali, inerenti l'uomo e la sua realtà, cioè parte dal fatto che noi siamo immagine e somiglianza di Dio e siamo fatti per comunicare. Dentro questo che è un elemento che ci costituisce, tutti noi siamo fatti così, dice c'è il rischio della logica del serpente, che si annidi il serpente. E qua allora parte da Damedeva, ma non è un modo di dire partire da Damedeva, parte proprio da loro per indicare come ci sia il rischio di lasciarsi contagiare dalla notizia falsa. E questo poi declinato nel mondo della comunicazione diventa pericoloso, perché può indurre tutto quello che viene dalla falsità. Mentre il vero è fecondo di bene, il falso è fecondo di male. Tutto il messaggio del Papa in questa giornata delle comunicazioni è veramente esaustivo e mette proprio le mani nel piatto della nostra professione. La cosa che forse mi ha colpito più di tutte, le cose sono due. Il giornalismo di pace, che significa non un giornalismo buonista che nega i conflitti e le notizie cattive, le cose brutte che accadono nel mondo, ma che le interpreta e le trasmette in maniera umana. Cioè considerando che al centro della notizia non ci deve essere la corsa a raggiungimento del massimo audience, ma il rispetto della persona umana, cioè l'uomo al centro della notizia. E la seconda cosa che mi ha fatto molto piacere, perché molto spesso troppi giovani soprattutto la dimenticano, che il nostro non è un mestiere, ma è una missione. Ci sono delle attività professionali che richiedono come precondizione il sentire che stiamo facendo qualcosa di servizio agli altri. L'attività giornalistica non può essere svolta in maniera responsabile se non viene sentita come una missione.